Prima ce ne stavano in questo piccolo gazebo, oltretutto ci stavano circa una decina di persone comode. Adesso chiaramente con le nuove ristrettezze a massimo tre persone ci potrà rientrare. Tre tavolini singoli, a meno che non abbiano la protezione plexiglass che divida l'uno dall'altro. Si inizia a pensare anche ad Arezzo alle future riaperture che ovviamente avverranno a distanza di sicurezza, ma intanto si scaldano anche i motori con take away e consegne a domicilio. Bar e ristoranti infatti sono chiusi da ormai due mesi e lo resteranno sino al prossimo giugno, ma intanto la ripartenza delle attività passa anche da qui, come ci racconta il titolare di questo bar. È l'unico modo per non arrendersi, rispettare le regole, perché di questo noi chiediamo soprattutto anche a chi ci governa, di darci i protocolli, di darci le regole per poterci regolare su che cosa fare, perché ancora ad oggi ci sono sì tante proposte, ma un protocollo ben chiaro settore per settore che stabilisca le regole ancora non ci sono. La richiesta dunque è quella di una maggior chiarezza, ma è necessario anche più sostegno al settore. La fase 1 è stata quella che ci ha scioccato, ma quella che ci deve fare paura è sicuramente questa fase 2, perché la fase 2 sarà sicuramente più lunga e sarà determinata da costi non controllabili, perché non si sa quando si riprenderà definitivamente. Gli aiuti da parte dello Stato purtroppo non ci sono stati ancora, o meglio, non si sono concretizzati. Il sindaco di Arezzo infine ha deciso di tendere la mano al settore della somministrazione. L'amministrazione comunale ha infatti deciso di alleggerire il peso fiscale attraverso agevolazioni sulla COSAP, la tassa sul suolo pubblico. Non è che saranno spazi che uno può utilizzare al 100%, perché bisogna fare anche conti con il fattore meteorologico, per cui anche quello sarà un pagliativo. Bisognerà fare conti con il caldo, con il freddo, non tutte, e comunque c'è anche un investimento da fare, perché i tavolini all'esterno bisogna comprarli, bisogna organizzarli, bisogna essere pronti.